Quindi Eccoli Loro Eccoli C'è Guardate Ho la batteria piena E mi sta scaricando Quindi Si è sdoppiato Ok Ho la batteria a zero Ma sono stati loro Non sono stato io Si è diviso in due astronavi Ora La batteria era Era carica Era carica Era carica Era carica Guardate Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.